La Milano-Domodossola, è, come per tante altre linee, stata oggetto di diversi ridimensionamenti. Non bastava il treno Milano-Porta Garibaldi a Rona delle 5 di mattina, eliminato già da tempo, ma dal 2015, è assente anche il treno delle 4, Milano-Porta Garibaldi-Domodossola. Questo, aveva la particolarità di fermare in tutte le stazioni. Dalla stazione di Milano-Porta Garibaldi, manca anche il treno per Mantova. Confidiamo in una revisione degli orari, perché il taglio delle corse pendolari del mattino e della sera, è altamente dannoso per coloro che, seppur pochi, è ammesso che pochi siano, come viene riportato nelle scuse, devono recarsi a casa o andare al lavoro prima o dopo un certo orario.